Avete mai provato le melanzane alla mediterranea? Sono filanti, profumate e buonissime. Lava, pulisci le melanzane e tagliali a cubotti. Taglia anche i pomodorini. In una padella metti aglio, olio, togli l'aglio e unisci le melanzane. Insaporisci con il sale, aggiungi i pomodorini. Grazie. 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 Profuma con il basilico, aggiungi il pepe e porta a cottura. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. nel frattempo taglia il formaggio a pasta filata a fine cottura aggiunge l'origano io ho utilizzato quello fresco ma andrà bene anche quello secco il formaggio a cubetti e le olive taggiasche grazie salta in padella ancora un minuto per far sciogliere il formaggio e voilà